1, 2, 3, gocci! 1, 2, 3, gocci! Croce! Decidiamo di ricevere al primo tempo. Simenna, hanno vinto il sorteggio e non decido di ricevere. Da che parte volete calciare? Adesso facciamo vedere che questa è la formazione piccolare del football. Ok? Forza ragazzi. Curi eh, andiamo giù eh! Dai veloci, veloci! Ok, va bene, va bene, si sente? Corre, ok. C'è il punt, punt, punt! Tomai, c'è il punt! Ritorno, punt, non ritorno. Occhio, vieni! Difesa, tutti qua, l'attacco di là! Scusa! 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 Robby, giochiamo? Punt? Quattro, ragazzi! Andiamo, andiamo, andiamo! Passa! Punti, punti! Punti, punti, punti! Sì! Sì! Perfetto, perfetto! Sì, hai! Sì! 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 Oh, ragazzi! Un dottore, qualcuno! Sì! 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 Non ci sono! Calciato! Calciato! Vita! Vita! Partita! Dai! Dai! Dai Paolo, dai! Vita! 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 Bruno Messi ha chiamato 20 volte, vai di qua, vai di là, lo so dove andava, tranquillo. Ok, lo c'ha. Io il mio lo stavo per portare dentro. Infatti dava bene, tu lo portavi dentro e lui passava dietro di te e dietro a lui. In goal line si entra come assassini e non devono passare, si entra come assassini tutti. E' passato sull'esterno, è arrivato Mike, ma ha incappellato un pa' caldo. E' una selezione di prossima del signano. Io lascio a girare l'angolo, è ilatore dei pali di Edo. È il percorso, è il percorso. Bravo Olivia! Meiji è rinno a 9. Come on, Meiji. Meiji è rinno a 9, too. Meiji ha rinunciato la presa sbagliata. Ragazzi, il quarto down è decisivo, mi raccomando, tutto adesso. Come on! Corsa, corsa! Oh! Vospecchio! 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 tolgo sto polone adesso che ero un po' in due zitti ma chi mette in mezzo? no nessuno avete le mani addosso, tolgo sto cazzo di mani adesso i due teco, i due inside devono tenere l'uomo, non interesse tenete dentro la guardia un teco, vanno troppo a bloccare il mainbacker, colpite, prendete il vostro muco ma tenete l'uomo, l'uomo va via, lo tenete, lo colpite due secondi lì e poi ti mette il pass e ti mette il giro? Oh, c'è il touchdown. Sì. Non il centro. No, no, no. Just that time. Just the time I told you. Ah, ok. Ok, ok. Se, especially to the left side, try because it's very slow. Keep it. Keep it. Stop, stop, stop. Vieni qua. Vai dentro. Fuori, batti là. Gabo Hen. Vai, vai, vai. Veloce, veloce. No, 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 no. Ci stanno mettendo le mani addosso. E noi non abbiamo la voglia di prenderle e di picarle via. Questo sta succedendo. No, mani addosso. Appena arrivano a bloccare, due mani sulla maglia e lo tiriamo via. No, mani addosso. Sveglia. Se l'uomo di linea entra e non viene bloccato, prende il pursuit, taglia il primo blocco secondo. Cioè, se non vi bloccano, c'è un motivo. Ma voi potete arrivarci. Cioè, tagliate qualcosa. Lo devi bloccare da davanti, così stai correndo dietro. Percembre. Stai con. Questo del campo è del tutto. fik. Grande. темna. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Make your route shorter than what it is. If it's a ten yard curl, make it five yards. So, yeah. If you ask mine, you gotta be smart. Come. 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 Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! 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 Proviamo a fare questo aggiustamento, giochiamo la nostra 4-2 anche contro il tight end, solo che l'hand strong, quello con il tight end davanti, si allinea tra attacolo e il tight end, l'esterno, quindi è del rover. Grazie a tutti, grazie a tutti. 30 secondi da quando ha fischiato. Corre! 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 Ecco dai ragazzi, dai ragazzi! Corre! 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 Grazie a tutti. 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 Due volte consecutivi, anche a partire aperta, tre volte, abbiamo fermato il tempo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.